buongiorno a tutti oggi voglio presentare e realizzare insieme con voi questa questa mattina molto molto bello io ricordo io ho fatto tanti anni fa ho fatto un vestitino per bambina questa parte di diritto questa parte di di rovescio guardate che bellezza molto molto bello e non complicato qui larghezza otto mali e al larghezza e altezza 88 giri perciò adesso possiamo cominciare adesso io faccio vedere voi schema schema è questa guardate non complicato semplicissima io penso cosa voi vedete molto bene e anche qui spiegazione forse spostata troppo forte e viene un po torbido e adesso seguiamo seguiamo il nostro schema parte di rovescio come guardano male dove rovescio dalla parte di rovescio allora vanno vanno diritto allora cominciamo cominciamo primo giro questo mio bordino non mica centro con motivo e cominciamo motivo due rovescio uno due quattro diritti uno due tre quattro diritti due insieme verso a destra verso a destra un gittato questo abbiamo fatto il nostro schema e adesso ripetiamo ragazzi io a posto sempre metto l'occhetto per dare voi capire anche dico cosa voi avete paura primi giri sbagliare con con motivo mettete queste l'occhetto questi spigli come a me è un modo di dilucchetto per questo io chiamo voi mettete così senza non sbagliate ripetiamo due rovescio uno rovescio secondo rovescio quattro diritti un diritto secondo diritto un diritto terzo diritto quarto diritto due insieme verso a destra giriamo come deve essere e facciamo insieme un gittato ripetiamo ripetiamo due rovescio uno rovescio secondo rovescio quattro diritti un diritto secondo diritto terzo diritto quarto diritto due insieme verso a destra giriamo ripetiamo il nostro malio corretto facciamo due insieme un gittato questa simmetria questo questo bordino abbiamo fatto primo giro adesso facciamo secondo giro voi fate senza di me voi fate senza di me come guardano le nostre malie a malie guardano così dove rovescio rovescio dove diritto fate fate diritto ci vediamo nel giro nel giro tre due rovescio un rovescio secondo rovescio tre diritti un diritto secondo diritto terzo diritto due insieme verso a destra due insieme verso a destra diritto diritto un gittato diritto un gittato diritto un gittato ripetiamo il nostro schermo due rovescio uno rovescio secondo rovescio tre diritto un diritto secondo diritto terzo diritto due insieme verso a destra diritto 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 un gittato diritto corretto diritto un gittato Verso a destra, così, diritto, un gittato. Questa è per simmetria a questo nostro bordino. Abbiamo fatto giro tre, ci vediamo nel giro cinque. Giro cinque. Questa bordino non mica centro con nostra motiva. Nostra motiva due rovescio, un rovescio, secondo rovescio, un gittato, due insieme verso sinistra, quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. E ripetiamo il nostro schema. Due rovescio, uno rovescio, secondo rovescio, un gittato, due insieme verso sinistra, quattro diritti. Uno, due, tre, quattro. Abbiamo finito. Questa una per simmetria e il nostro bordino. Abbiamo fatto giro cinque. Adesso giro sei, fatte da sole. Dove rovescia, rovescia. Dove diritti, diritti. Ci vediamo nel giro sette. Giro sette. Giro sette. Due rovescio, un rovescio, secondo rovescio, un gittato, diritto, due insieme verso sinistra, tre diritti. Uno, due, tre. Lucchetto. E ripetiamo il nostro schema. Due rovescio, un gittato, diritto, due insieme verso sinistra, tre diritti. Uno, due, tre. Ripetiamo il nostro schema. Due rovescio, un gittato, un diritto, due insieme verso sinistra. tre diritti. Tre diritti. Uno, due, tre. Abbiamo fatto. Giro otto. Facciamo da sole. Abbiamo finito, giro otto, e così è venuto il nostro motivo. Guardate. questa parte di diritto, questa parte di rovescio. come io così guardo, mi sembra come un tronco. Tronco è molto, molto bello. specialmente vestite vanno molto, molto bello. Io ho fatto per bambini. Allora, è così, è questo tutto motivo. Come ci vede bene, ragazze? Chiedo scusa per luce. È così, è tutto. Ragazze, io auguro a voi buona giornata, io auguro a voi buon salute, e fortuna, e anche per me. Grazie, arrivederci.